Andiamo a rileggere il campo partenti. Prima fila per Daphne Dord, Dea Leone FF, Doris Degli Olivi, Dark Stargard, Denaldo P, Daniel Rockey, Druso Nerone GPD e De Luisa. Seconda per Drupi Ferm, Dama di Cuori Fonte, Donalgio, Dubai Jet, Delta Fass, De La Vdipa, Dark Model e Dart di Girifalco. Terza fila per Desideri, su Deltafass c'è Romeo Gallucci, Dama di Cuori Fonte e Drupi Ferm, corrono in rapporto di scuderia. Chiusura delle ali, Doris Degli Olivi, attaccata da Denaldo P, più a largo Dernier Cry, più a largo ancora De Luisa. 200 metri iniziali in 13,8. Doris Degli Olivi per il momento agisce al comando. Terza ruota per De Luisa che punta sui primi. 28,5, il quarto iniziale, si è un po' scatenata all'allieva di Sabatino di Vincenzo. Arriva a larghe folate De Luisa, la va ad impegnare. 600 volati in 43,3, De Luisa insiste e passa a condurre. Bucco della penultima piegata, De Luisa sullo slancio arriva ad 800 metri siderali in 58,5. A largo si fa notare De La Vdipa, De Luisa, Doris Degli Olivi, De La Vdipa, poi Daphne Dorr più indietro, Denaldo P. Ritmo estremamente selettivo, chilometri in 1,13,2 e De La Vdipa aggancia De Luisa in testa alla gara. Insiste De La Vdipa ai lati di De Luisa. Tre quarti di miglio completati in 1,27,7 l'errore di De La Vdipa. Così De Luisa filata da Doris Degli Olivi, sbaglia anche Dark Stargarra. Più dietro Doris Degli Olivi sposta ai lati di De Luisa. La va ad attaccare, guadagna Daphne Dorr. Arriva Donald Joe, Donald Joe a larghe volate, va sui primi due. Donald Joe è incisivo a centropista. Donald Joe prende la meglio su una strepitosa De Luisa. Mentre per il terzo lunghi paletti, truppi ferma. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14 per il ritorno al successo di Donald Joe, il figlio di Victor Joe e Velina Joe, che approfitta dello svolgimento a parziali contrari per far valere una maggior prestanza nel tratto finale. De Luisa fa un autentico sproposito. 43 i primi sei per sfilare a condurre. Poi subisce l'attacco di De La Vdipa e alla fine riesce a conservare il secondo posto. Almeno questa è la prima impressione. Andiamola a rivedere. Sì, è seconda De Luisa sull'attacco interno di Drupi Ferm. Buono per la prossima. Quindi arrivo probabile ed ufficioso. 11 Donald Joe, 8 De Luisa, 9 Drupi Ferm. Ripeto, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14 per l'allievo di Mario Minopoli Jr. Allenato dal Team Minopoli. Ripeto, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14 per l'allievo di Mario Minopoli.